La sua carriera è fuori città, però amava sempre Trieste e chiedeva sempre a noi quando tornava a casa ogni lunedì cosa ha fatto alla Triestina, cosa ha fatto ai greghi come diceva lui, era sempre affezionato alla sua città. La sua carriera è più veneto che triestino, io penso che sia nata negli anni di Padova. Qui a Trieste quando giocava e anche allenato a Trieste non veniva chiamato il parò. Poi è andato a Milano con questo soprannome simpatico che indicava la personalità della persona. Come allenatore allenava la squadra e curava anche le famiglie dei calciatori, cioè creava quell'ambiente veramente familiare per cui tante tante persone dei calciatori sono legate a lui. Noi ricordiamo che lo facevano addirittura fare il testimone di nozze o dei battesimi dei ragazzi, avevano tante foto. per cui dove andava la sua psicologia era vincente. Mio fratello ha detto giusto, ha detto bene perché qualche volta lui poi voleva fare il testimone di nozze di qualche suo giocatore o qualche suo amico e in sostituzione di papà andavamo io o lui. Io penso adesso avrebbe non amato tanto questo calcio business, però lui secondo me era talmente abile che sarebbe adattato e avrebbe guidato bene anche questa società. Mio padre cercava sempre di imporre un po' scherzosamente il dialetto triestino, dove le battute li riuscivano più facili. Parecchi amici, ex giocatori di papà, ci salutano in triestino molto spesso, sono rimasto anche a loro certe frasi in triestino. La sua carriera è fuori città, però amava sempre Trieste e chiedeva sempre a noi quando tornava a casa ogni lunedì cosa ha fatto la triestina, cosa ha fatto i greghi come diceva lui, era sempre affezionato alla sua città. Lui era nato nella triestina, aveva sicuramente mezzo cuore, anzi tutto il cuore rosso da Bardato. Prima di Milan, prima di Padova, che con tutto rispetto per tutti, per l'amore di Dio. Bellissimi ricordi a Milano, a Padova, ma prima di tutto la triestina.